Siamo con Mattia Boninfante al termine di una partita molto combattuta come ci si immaginava con Bologna con una formazione assolutamente sperimentale siete partiti molto concentrati e poi è stata una montagna russa si è stata una partita dura loro dovevano giocarsi tutto perché con questa sconfitta sono retrocessi quindi dovevano provare a far punti in tutti i modi e noi diciamo eravamo un po' in difficoltà di organico e di organizzazione per i nostri giocatori che sono venuti a mancare nelle ultime giornate quindi siamo molto felici perché non è assolutamente scontato e ce la siamo guadagnata Ha esso l'ultimo sforzo in vista dei playoff in ultima partita andremo a Belluno e c'è il big match tra Pineto e Grotta Zolina noi faremo il nostro e vedremo come va a finire Sì esatto dobbiamo prima pensare a noi per portare altri tre punti a casa domenica prossima e poi dobbiamo dare un occhio agli altri campi per vedere come ci posizioneremo all'inizio dei playoff Grazie Mattia MVP di questa gara Grazie a voi